Musica, arte e sport per la valorizzazione di Saione, questo l'impegno del Lions Club Arezzo Chimera con il sostegno di alcuni commercianti e professionisti del quartiere. L'obiettivo è quello di far rifiorire il quartiere di Saione, spesso al centro di spiacevoli episodi di cronaca. Il Lions Club Arezzo Chimera si è dato questo impegno quest'anno e per l'anno prossimo di progettare una serie di iniziative a favore del quartiere di Saione, proprio per cercare di riaccendere le luci sul quartiere, ritrovare un po' l'orgoglio di viverlo, di abitarlo e portare anche a retini delle altre zone a venire qua. Per questo una serie di iniziative, tutti avranno visto le immagini di Maria Mulas sulle facciate di Saione, una conferenza al Pionta sulla storia di Saione, molto bella, molto interessante. Questo concerto stasera, che proprio per questo motivo non è uno dei tanti concerti prenatalizi che si susseguono in città e in tutta Italia, ma acquista un significato molto particolare. Dopo di questo faremo per l'Epifania una passeggiata contro la violenza di genere, quindi tutte donne truccate da Befana a spasso per il quartiere di Saione. E poi seguiranno da gennaio fino a fine maggio una serie di iniziative, tra cui corse podistiche, corse di mountain bike, una festa medievale al Pionta con figuranti della nostra giostra del Saracino e altre cose. una serie di eventi, di iniziative, ripeto, per portare un pochettino gli aretini a rivivere questo quartiere, che una volta era la perla non moderna della città, il primo quartiere fuori dalle mura e che ora invece comincia ad avere luci appannate.